Buongiorno a tutti, è una grandissima emozione ritornare in questa storica Sala Stampa, saluto anche gli amici della Sala Stampa, Lucio Dalla si sono collegati. Inizierei dicendo che domani inizia il 74esimo Festival di Sanremo, però in realtà in città sono già diversi giorni che il Festival è iniziato e questo secondo me è il dato più importante, non ho mai visto una Sanremo così frizzante, una Sanremo piena di entusiasmo e questo, vorrei ribadirlo, è frutto di un grandissimo lavoro da parte del direttore artistico Amadeus, da parte della RAI, da parte della RAI Pubblicità e di tutti gli sponsor che ho sentito i loro interventi precedentemente. E' iniziato questo importante evento da Piazza Colombo già sabato sera con fiumi di gente che abbiamo fatto l'anticipo di quello che saranno una piazza a Stracolma e una piazza dove ci saranno grandissimi artisti. Abbiamo visto ieri sera, chi ha avuto la possibilità di vedere tutti i fuochi d'artificio, è stato qualcosa di straordinario, c'era tutto il porto, un'invasione di persone, persone felici, contenti di questo inizio, di questa straordinaria edizione. E' stata, poi stasera avremo il ritorno, ci saranno i green carpet che è un altro momento molto atteso dalla città. Io prima mi ricordavo una cosa, mi sono risentito la prima conferenza stampa che ho fatto proprio qua nel 2015 e annunciavo una cosa straordinaria, ritornerà il red carpet. Ecco, se pensiamo dal 2015 ad oggi cosa abbiamo in città, è stato fatto un lavoro straordinario da parte di tutti. Fatemelo dire che ho sentito già parlare di festival diffuso, che mi piace questa parola perché in realtà è su questo che la città deve puntare per il futuro, è su questo che è stato fatto un lavoro, ama, grandissimo, l'ho detto, non mi stancherò mai di dirlo, di ripetelo perché ci è voluto anche tanto coraggio, ci sono voluti tante, una squadra che è sicuramente capitata da te, ma che è una squadra che funziona perché tutto poi deve incastrarsi e andare. Questo è quello che è stato fatto e sono molto orgoglioso. Non so chi di voi è bello stamattina, ma vi posso dire che alle 5 del mattino in via Matteotti si cantava già, ho visto anche passare dietro la banda di Bordighera, Amadeus, insieme a Fiorello che si facciavano sul green carpet, delle cose incredibili, ma vedere tre, quattro, cinquecento persone, già alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, alle 7 del mattino, essere lì, a dirà mi dispiace per quei residenti che dormivano a quell'ora, però al festival una volta all'anno, mi avere un po' di pazienza, è stato veramente un qualche cosa di, a mio avviso, quelle cose che riempiono, che ti danno la forza di andare avanti poi in questi giorni, ecco perché credo a volte vi dico, io vi dico oggi sono un po' stanco, poi penso ad Amadeus, come fare voi ad andare avanti? Poi io credo che tutto il contorno, tutti voi, quella che danno la forza di affrontare questa settimana incredibile. Ascoltate, avrei tantissime cose da dirvi, abbiamo una settimana a stare insieme, non voglio rubare troppo tempo, però volevo farvi veramente un benvenuto a tutti voi, vi augurarvi buon lavoro e buon festival a tutti. Grazie.